Ciao a tutti ragazzi, oggi portiamo un video molto particolare portiamo CTR a vecchio stile cosa significa? significa che giocheremo con la stessa console come giocavo ai miei tempi perché sono vecchiotto con due controlle non come tutti giocano online perché siamo poveri mettiamo due giocatori come si giocava una volta e facciamo il casino abbiamo già sbloccato dei personaggi perché intanto abbiamo un po' pastrocchiato e giocato io sto giocando la mia lucerta la preferita io sono il giocatore blue light e bonfi dall'altra parte il pinguino si sblocca con i codici come nel vecchio quindi se volete sbloccarlo vi lasciamo in descrizione come fare a sbloccare il pinguino è la combo di tasti nel menu principale la combo in descrizione va bene, pronti tutti e due e si iniziamo a fare ste coppe verrà perfezione prima di attivare il turbo, aspetta che l'indicatore sia così pieno è rischioso ma otterrai una spinta maggiore 3 2 0 non sono partito vediamo che è primo io no, io ho già finito la pista oh, dio steccati si, scolciatoia che palle quella lì la imbrocchi sempre porca trota armi di merda ah, ma datemi qualcosa di utile vai, vai vai, vai, vai no ti voglio bene è stato lui guarda, tieni i bot guarda, guarda contro di te più che alcuni volte in teoria lo sai, vero? no, no, guarda contro di te perché? cosa ho fatto? ti voglio bene mi sono visto un buon e camposso vaffanculo non è vero non è vero non è vero scoperto, scappato ti scopro è un po' ma non è vero mi sono fatto da me mi sono scherzato è un po' ma non è vero ma non è vero tutti i bug già abbiamo scoperto un bug lo abbiamo postato sulla nostra pagità in instagram lo sapevi, bonf? si c'era anche te mi sembra quando ho giocato si quindi però bellissima sono morto dal rito cioè io è due secoli che quando ho scolzato io non mi sono mai incastrata due secoli sei così vecchio io si io ti voglio anche di più no, dai così impagheri no, non devo ridere così impagheri dei disgusti al tuoi aiuto addio no, mi piace dai dai bastardo apposso teniti dai dai no, bastardi oh, mi sono ha vinto voi qualcuno ha vinto non ho perso quelle bombe no, ti sei cagliato di toppa madonna mia hai perso per quello è vero io ho perso perché sono scoppiata lì solo noi possiamo far di bagare solo noi riusciamo a bagare sto gioco eh, perché poi non la mettiamo a fine video la clip sì, sì abbiamo fatto una gara prima che ci siamo dimenticati di fare una cosa mettere una clip a fine video e poi le regolette anche di dare risate cioè solo noi possiamo bagare sto gioco ma donna come cazzo fate che starmi perché va bene solo noi solo solo se noi gli anni canto possono bagare il gioco adesso vediamo se riusciamo a bagare anche questa che è il mondo magari si chiude il poltone e si finira sopra la mappa voglio provare no vai parta parta vabbè vai mi sa che lascerò non trascorrere così più tempo uno due io non parto oh sono partito oddio oddio comunque ancora guerra io no per quanto senso sì non ci sapete un piccato di ping cos'ha molto piccolo per quello lo usano tutti secondo te ci occupa poco spazio e da accelerazione perché ha la velocità al massimo io mi trovo male con la velocità al massimo devo essere sincero io mi trovo meglio quelli che sono più o meno bilanciati tipo questo e infatti giochi uno che è praticamente fuori stanzata no il mio sì no tutto bilanciato sono tutti quasi pari non ha tutta al massimo non ha caratteristica al massimo pensavo essere stanzata più alzare no no qua c'è dici la sgommata tipo in accelerazione c'è velocità accelerazione e stanzata cioè io devo sempre rischiare con ste cazze di bombe ti apro io la sbarciatoia te lo giuro allora vai affanculo ti arrangi allora passi io gliela aprivo e adesso lo faccio io ciao stronzetto di un buon figa ti tocca passarti così no per noi intanto uno di due la prende guarda con quello che abbiamo la prendi tu perché te lo meriti il karma il karma io ho detto gli apri una scorza taglia non hai voluto sui casi tu perché me la male può anche parlare non è che devo parlare no io devo tagliandare intanto te l'auto tiri no baffa ma non ci credo ho buttato via l'arma ho detto tanto non mi si chiude l'ha già aperta bonfi no ho schivata la pozione te l'ho detto baffa no ho schivato no veramente ma dai presa male io ho chiuso di stand l'hai fatto bene io l'ho chiuso prendendo una fuoco anche che ti superano eh oddio rischio anche che ti superano pensavo che era l'ultimo là in fondo invece aveva un po' l'ha attaccato al culo ma dio ma porca miseria let's get it vado a falcura le voglio bene ma quando fa così vado a falcura dai guarda che in questa pista non sappiamo riscolti esatto non è vero io lo so no io lo so tipo un taglio lì però non lo faccio perché cado giù col culo che ho in sti giochi io cado giù io posso cadere anche se nè non posso cadere a me il microfono no ma è uguale tanto dopo verrà tagliato tu sei il primo io sono prima a 15 punti ho fatto un secondo e un terzo un secondo e un ho giocato malissimo il buy a crash perché si è morti da ridere quindi colpa tua il buy a crash perde all'inizio perdevo quando provavo a allenarmi a riprenderci un po' la mano perché non è che siamo pro player noi giochiamo siamo molto casual oh casual player quindi casual player no casual 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 faccio stragi faccio stragi oddio ho preso uno con la pozione sono riuscito a prendere uno con la pozione al volo cioè hai lanciato l'ho lanciato avanti mi sa che ho preso qualcuno penso no penso non è che no mi ha preso la bomba porca trota ma non l'avevo preso il gioco ha detto si si avanti che noia perché che noi io sto rallentando un personaggio voglio dire rallentare a cazzo non hai mere no sai perché perché ha freddo mi sembra che è una lucertolina ah sta molto freddo sì no 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 ma quando sei avanti io un voto a me mi da solo la pozione da dietro io mi sto tenendo una bomba da due giri di ferma perché vieni io lo sai coso cioè tutta roba è da dietro ma non ho visto niente solo un buddega da nitro che non ti serve io ho usato un buddha che ero quinto e ho superato tutti io ero ottavo me l'ha dato ripo e basta ma che brutta perchè vado più lento qua perchè è fuori pista vaffa non farò lori io ho fatto se avete notato ho fatto un pro per vedere ma era il primo mi sono fermato su una linea e ho aspettato che arrivasse il secondo non so più non dovrei vincere tutto non so più fare a giocare dai che se mi compri la skin da samurai del pingui non mi batte nessuno magari te ti metti il pingui e batti tutti può essere è andata a fangur dai io stavo per attivare la bolla comunque la scorzettoia in realtà non la sai è tipo tagliare un pezzo di pista c'è comunque comunque taglio no col butro col grissino perchè come scopido che taglia la nebbia col grissino la nebbia col grissino scopido ma dai non mi ha preso ovviamente attenzione attenzione bello che non devi cliccare indietro ho preso qualcuno forse sì no io ho preso col missile è che ho voluto vallare indietro per vedere se c'era qualcuno nella mia traiettoria ovviamente a me mi ha preso un missile poi questo è tipo il buriga quando la nebbia dura è tipo tantissimo ma tanto eh ti odio ti odio dai che tanto non ti sa ok mi sta per morire un controller il tuo mi sa di sì sì si mi devono inzirati se no ci si è sempre scritto come il figlio ma quanto vai a palla con quel pinguino non posso fare dei acquari no 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 sei un infame dai ma che arma di merda no sai perchè hai vinto perchè mi sono preso la tnt quindi non ho diventato per quello senta te faccio il punteggio faccio il punteggio io sono sempre in cima al podio con il mio pinguino che il bar che fa il inchiacciato adesso fallo anche te imitalo no non me lo ricordo no non va bene va bene oh che baracopo che c'è di chi ah è mio no non è piano guarda che piano è mio comunque adesso sei un sorpetto si direi dici com'è boh fallo con questo pinguino super festeggiante è il mio che sta piangendo una di notte allora perchè come li ho così la vabbè è più disperato sento anche una mano non vedi vi salutiamo il tuo è senza un piede ha la coda no le ha comunque dopo sta mi viene se vi salutiamo speriamo che vi piacciono comunque una zero per te allora per adesso vediamo nel prossimo video chi vince ciao ciao guarda ha fatto anche lui è stato bellissimo ha fatto posto ho ponuto x io guarda no